Ben ritrovati a tutti voi con la nostra informazione. Si è conclusa con il licenziamento, la vicenda che a metà ottobre aveva fatto molto scalpore quando da un'indagine della Guardia di Finanza di Asti era emerso un caso da furbetti dei cartellini. Il comportamento scorretto aveva coinvolto Vito Parisi, 53 anni, comandante della Polizia Municipale di Villanova e il suo agente sottoposto Mario Versili. Quest'ultimo ogni mattina arrivava al comando alle 7.30 e timbrava sia il suo che il cartellino del comandante che vive a Torino, quando poi si allontanava ed entrambi entravano effettivamente alle ore 9. Le fiamme gialle avevano filmato quanto accadeva pare da due anni e li aveva denunciati per truffa aggravata e continuata. Adesso il comune di Villanova, che ha subito un danno pari a quasi 5.000 euro, ha deciso per il loro licenziamento. Il difensore di Parisi ha già fatto richiesta al Tribunale del riesame affinché venga sospesa la misura cautelare che prevede l'obbligo di dimora. Secondo lo stesso comandante sarebbe stata la ripicca di qualcuno a incastrarlo e sulle pagine di Facebook ha scritto che tornerà in servizio e che uscirà fuori da questa vicenda. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Alessandria il trentenne alla guida di un mezzo pesante che questa mattina alle 9.30 è rimasto ferito nello scontro con un altro camion lungo la A21, la Torino a Piacenza, in prossimità del comune di Solero. Al momento non si conoscono le cause dell'incidente al vaglio della polizia stradale di San Michele, intervenuta sul posto insieme ai medici del 118 e ai vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per estrarre dalle lamiere il ferito, poi ricoverato in codice rosso. L'ex consigliere comunale grillino di Alessandria, Angelo Malerbo, accusato di furto, confessa e risarcisce, ribaltata la tesi difensiva, sostenuta a lungo con un precedente difensore. Ci racconta Emma Camagna. Angelo Malerbo, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle da cui è stato allontanato, accusato di aver rubato 50 euro da un armadietto della palestra Pianeta Sport il 10 marzo 2016 e poi di altri precedenti sette furti, dopo aver cambiato difensore, non ha più Massimo Martinelli ma Fabio Bellora, ha confessato le proprie responsabilità, comparso in tribunale per la ripresa del processo dei sette furti, per il primo già è stato condannato e la sentenza in appello. Malerbo ha detto, sono qui per ammettere, mi assumo tutte le responsabilità dell'accaduto, chiedo scusa di quanto è successo a tutti e sono disposta a risarcire le persone che hanno avuto danno. Ritiro anche tutte le cause civili che il mio precedente avvocato mi ha fatto aprire nei confronti di forze dell'ordine magistrato. Il risarcimento, ha detto ancora, avverrà prima del 5 dicembre, giorno della ripresa del processo. Il colpo di scena era nell'aria perché l'avvocato Bellora lo aveva preannunciato. Semplificare tutto per chiudere la vicenda nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi, azzerando ogni frizione. Il nuovo percorso seguito riporta la vicenda che avrebbe dovuto risolversi in 448 in un contesto più umano, dove i fatti non sono contestatili, ma è tornata al centro del giudizio di un uomo che, seppur inciampato in una debolezza, ha scelto la via della conciliazione e della chiarezza processuale per un riscatto sociale di giustizia. Infatti, più che per il ruolo del personaggio e la consistenza, se incanalati in un percorso difensivo normale, gli avrebbero consentito di ottenere per il furto del 10 marzo la messa alla prova ai servizi sociali, evitando la condanna. Si è invece privilegiato l'attacco agli inquirenti e al giudice, anziché la comprensione umana per l'imputato. E' durato quasi quattro ore l'interrogatorio di Chiara Pendino, destinataria di un avviso di garanzia per i fatti di piazza a San Carlo. La sindaca di Torino ha risposto al procuratore Armando Spataro, che coordina l'inchiesta, e PM Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo. Assistita dal suo legale Luigi Chiappero è arrivata a Palazzo di Giustizia in auto, servendosi del parcheggio sotterraneo. Non ha incontrato i giornalisti, ma solo diramato una scarna nota nella quale si legge. Sono andata a rispondere contribuendo, per quanto a mia conoscenza, alla ricostruzione dei fatti, a tutela della mia persona e delle istituzioni che rappresento. L'Appendino, che fin dall'inizio dell'inchiesta aveva assicurato la massima collaborazione con gli inquirenti, figura tra le 20 persone indagate. Il suo nome era stato uno dei primi ad essere iscritto per effetto di un centinaio di denunce arrivate a Palazzo di Giustizia subito dopo i disordini del 3 giugno scorso. Pubblico delle grandi occasioni al Museo della Gambarina ad Alessandria, dove si è parlato della lungimiranza del pensiero politico di Bettino Craxi a quasi 18 anni dalla sua scomparsa. Il convegno è partito con la proiezione del corto Europa-Europa, che raccoglie alcuni tra i discorsi più significativi dello statista, realizzato dalla Fondazione Bettino Craxi, di cui la figlia Stefania, presente in sala, è presidente. Tra pochi mesi ricorrerà il diciottesimo anniversario della morte di Bettino Craxi, statista rinnegato dal suo paese, che scelse volontariamente l'esilio ad Amamet dopo il caso Tangentopoli, che lo travolse e che lui subì quasi senza combattere. L'azione di Craxi si è fin da subito contraddistinta per una sensibilità alle tematiche di politica estera fuori dall'ordinario. Vent'anni fa aveva già intuito come il mondo si stesse globalizzando, come fosse necessario istituire una banca di investimenti per i paesi del Mediterraneo, per favorire lo sviluppo di quei paesi dimenticati dall'Occidente, affinché la loro crisi non diventasse la nostra crisi. Nei suoi discorsi traspare un'idea di Europa, nella quale l'Italia doveva avere un ruolo predominante. L'Europa ha bisogno dell'Italia, aveva detto, ma era forte anche l'invito di richiedere e pretendere la rinegoziazione dei parametri di Maastricht, che così, come erano posti, avrebbero distrutto il nostro paese, in quanto già allora aveva perfettamente compreso che il vincolo del 3% al deficit avrebbe impedito all'Italia di sostenere la propria economia. Alcuni stralci dei discorsi di Craxi sono stati proiettati al Museo della Gambarina d'Alessandria, nel corto intitolato Europa Europa, ad opera della Fondazione Bettino Craxi, di cui la figlia Stefania è presidente. Insieme a lei, a parlare della lungimiranza del pensiero dell'ex leader socialista, l'eurodeputato Stefano Maullu, Fabrizio Grossi, presidente del Centro Studi e Ricerche Urbano Rattazzi e il presidente del Consiglio Comunale di Alessandria, Emanuele Locci, che ha organizzato la serata. Stefania Craxi ha raccontato chi era suo padre, la lungimiranza del suo pensiero politico internazionale, i suoi giorni ad Ammamet, di come l'Italia lo abbia denigrato, ma soprattutto della miopia politica, figlia dell'egoismo, che ha favorito l'implosione del terrorismo e di una migrazione gestita dalle organizzazioni criminali. Uno statista al di sopra della politica, capace di una forte e incisiva azione di governo e di ammodernamento del paese, che pose all'attenzione dell'Italia il problema della governabilità e della grande riforma istituzionale. La città di Novi Ligure apre le sue porte al rinnovamento e lo fa partire dal Centro Storico, che il prossimo anno vedrà la riapertura del teatro e di un cinema. In 23 pagine ha raccolto le idee da indirizzare al commercio, affinché questo comparto segue il rilancio voluto e sperato dall'amministrazione comunale. Enrico Mariano. Progetto Centro Storico è un fascicolo di 23 pagine realizzato dal comune di Novi Ligure. Al suo interno vi sono le idee per un rilancio del commercio nel cuore della città, un rilancio che passa guardando ad un centro storico in cui entro un anno verranno aperti il cinema e il teatro ristrutturato, un rilancio che punta al trasferimento, grazie ad un municipio lasciato vuoto, al trasferimento di importanti uffici come IMSS, Centro per l'impiego, Consorzio intercomunale trasporti e Centro provinciale per l'istruzione degli adulti. Un rilancio infine riqualificato della ex cavallerizza e dell'area circostante. Il progetto è stato illustrato nella seduta congiunta delle commissioni gestione territorio, attività economiche e turismo e di quella pubblica istruzione, cultura, affari sociali, sport, sanità e politica del lavoro. Il sindaco Muliere nel corso della seduta ha inoltre affermato che sia con le associazioni dei commercianti e degli artigiani che con i singoli dettaglianti sono state aperte delle discussioni e che un incontro con questi ultimi è in programma per il prossimo lunedì 20 novembre. In questi incontri l'amministrazione comunale presenterà il suo progetto di rilancio, ma ha specificato il sindaco, siamo aperti alle proposte e dai contributi di tutti per migliorarlo, proposte che raccoglieremo dando anche una tempistica, un centro storico quindi come punto di riferimento culturale con iniziative realizzate assieme alle associazioni di categoria. E di rilancio del turismo si è parlato anche all'Enoteca regionale di Ovada. Per noi Fabrizio Mattana. Ovadese, territorio per il turismo, è il titolo di un convegno svoltosi presso l'Enoteca regionale di Ovada che ha chiamato al confronto esperti del settore operatori della zona. Ce ne parla l'assessore al turismo Giacomo Pastorino. Sta diventando ormai una tradizione da un po' di anni, da quando ho aperto l'Enoteca regionale di Ovada, utilizzare questa cornice dell'Enoteca per organizzare qualche iniziativa culturale o convenistica. Abbiamo parlato di paesaggio, abbiamo ragionato di vino naturalmente, visto il locale dove ci troviamo, abbiamo ragionato dell'agricoltura come strumento di tutela del territorio e quindi del paesaggio. Quest'anno abbiamo scelto con l'Andis, che è un'associazione che collabora con noi ormai da molti anni e che naturalmente ringraziamo, e con il patrocinio non solo del comune di Ovada, al nome del quale parlo, ma dell'associazione Paesaggi Vitivinicoli e dell'associazione Enoteca regionale, abbiamo deciso di dedicare la nostra attenzione al turismo. Poi ci spiegherà meglio Mario Ferrero, che è qui con me, come sarà declinata. Noi riteniamo che il turismo possa essere una gamba importante, non prioritaria magari, ma sicuramente importante, nello sviluppo del nostro territorio. Nella prima parte faremo un approfondimento più accademico su quelle che sono esperienze anche fuori, chiaramente dai confini locali. Nella seconda parte invece del convegno avremo un po' di testimonianze del territorio su quelle che sono le problematiche oggi del turismo in ambito locale e le opportunità. Noi crediamo che questo territorio possa svilupparsi grazie al turismo. I punti di forza sono molti, vanno valorizzati, va costruita una strategia, noi crediamo. E quindi oggi è un momento per riflettere tutti insieme su questo tema e speriamo che possa essere di buon auspicio per le strategie future, non solo del Comune di Ovada, ma di tutti i comuni che gravitano attorno al centro di Ovada. Oggi si celebra la giornata dell'albero con legno. Il consorzio servizi legno sughero insieme a Lega Ambiente ha promosso una campagna social tramite Facebook, Twitter e Instagram. Ogni 50 post pubblicati utilizzando l'hashtag unalbero è verrà donato un albero nelle aree verdi che più necessitano di interventi. Sentiamo. C'era una volta una canzone che i bambini degli anni 60 cantavano come una filastrocca, ma che invece sviluppava i dettami della vita e che partiva dalla consapevolezza che per fare un albero ci vuole un seme. Tempi che cambiano, la natura si fa social, ma le tematiche rimangono sempre le stesse, anzi, oggi si sono fatte ancora più impellenti ed è così che nell'era moderna, per fare un albero, ci vuole l'hashtag. E' questo il titolo della campagna social realizzata per celebrare l'importanza degli alberi in tutte le loro forme, soprattutto in un momento delicato come quello che hanno recentemente vissuto i boschi italiani, distrutti da numerosi incendi. L'iniziativa Per fare un albero ci vuole un hashtag, promossa da Conlegno, il consorzio servizi legno sughero e da Lega Ambiente, invita tutti gli utenti a pubblicare foto, video, contributi scritti e disegni su Facebook, Twitter e Instagram, utilizzando l'hashtag Unalbero è per porre l'attenzione sull'importanza che il verde riveste nella vita quotidiana. Un'iniziativa che è un importante fine sociale ed ecologico. Ogni 50 post pubblicati nella giornata di oggi, festa nazionale dell'albero, Conlegno si impegna a donarne uno per dare vita a spazi verdi nelle aree che maggiormente necessitano di interventi. Il desiderio di condividere l'impegno quotidiano di Conlegno per la salvaguardia del patrimonio forestale e della biodiversità è alla base della partnership con Lega Ambiente, confermando una seria assunzione di responsabilità e un forte impegno nel monitoraggio, controllo e attuazione dei regolamenti atti a migliorare le politiche di gestione e tutela dell'ambiente. Il 2017, infatti, sarà ricordato come un anno orribile per la devastazione prodotta dal fuoco, che ha divorato anche gran parte del patrimonio naturalistico italiano. Nel 2017, secondo i dati elaborati da Lega Ambiente, aggiornati al 30 ottobre, sono andati in fumo, solo in Italia, ben 140.430 ettari di superfici boschive, pari al 293% del totale della superficie bruciata in tutto il 2016. Mostra di antiche Bibbie della Biblioteca Vescovile di Alessandria, tornate visibili dopo l'alluvione del 1994. Si è potuta visitare nella chiesa di Santa Lucia su iniziativa dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi. L'antica chiesetta di Santa Lucia risale alla metà del Settecento, oggi luogo del cuore FAI, che sorge sulla piaccetta omonima e costituisce uno degli angoli architettonicamente più armoniosi della città, gestita dal 1950 dagli scout, ha ospitato una singolare e particolarmente interessante iniziativa. Si è trattato della mostra di alcuni dei più importanti esemplari di Bibbie possedute dalla Diocesi, tornati visibili dopo l'alluvione del 1994. L'ha organizzata l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Alessandria, in collaborazione con la cooperativa ARCA, che da anni si occupa della cura e della catalogazione dei volumi antichi della Biblioteca Vescovile. Sono intervenuti il Vescovo Guido Gallese, il Delegato Vescovile dei Beni Culturali, il Diacono Professor Luciano Orsini. A presentare i volumi è stata Maria Pia Mirone della cooperativa ARCA, mentre si sono potute ascoltare musiche suonate al violino da Giacomo Lucato, allievo del Conservatorio Vivaldi. L'iniziativa rientrava in un piano di valorizzazione a livello regionale denominato Progetto MAB, che punta alla massima conoscenza e diffusione del patrimonio librario, documentario e museale dei beni ecclesiastici piemontesi. Torniamo ai giorni nostri, tra poco con Dede Vinci. Sapremo qualcosa di più per quanto riguarda il futuro dell'Alessandria Calcio. Da un momento all'altro, infatti, si potrà forse sapere dove è caduta la scelta del suo presidente, del presidente Luca Di Masi, su chi metterà la guida dei grigi. Ci vanno un nuovo allenatore, un nuovo direttore sportivo. Le ultime indiscrezioni sul nuovo tecnico danno per certo il mister del Vicenza, Franco Lerda. Ne sapremo comunque di più tra poco. Poi il meteo. Grazie per averci seguita. Arrivederci.